Ancora un altro rinvio per l'elezione delle commissioni consigliari permanenti a riposto. Ieri sera alcuni consiglieri di maggioranza hanno abbandonato l'aula e la votazione è saltata. In consiglio comunale comunque ieri sera tanto spazio all'attività ispettiva. Sebastiano Bergancini del PD ha chiesto all'amministrazione il ruolo del comune sulla rielaborazione degli uffici del giudice di pace di Giarre e sullo stato della villa Torre Archirafi. Ezio Raciti invece ha dedicato una delle sue interrogazioni all'operato della Polizia Municipale nel centro storico mentre Paola Emanuele ha chiesto chiarimenti sulla reintroduzione delle strisce blu. Giovanni Pennisi invece ha invitato l'amministrazione a farsi carico del problema legato ai tagli del personale all'interno del porto turistico Marina di Riposto. Poi come detto manca il plenum in aula e si rinvia all'elezione delle commissioni.